Quando ho ricevuto la risposta di essere stato ammesso a questo corso sulla sperimentazione e sulla ricerca dei farmaci, avevo alcune aspettative. In realtà io faccio parte dell'associazione HHT ONDUS, quindi delle teleangectasie ereditarie morragiche e in quanto tale, anche impegnato a livello europeo, speravo che mi venissero trasmessi gli strumenti per poter iniziare a valutare insieme alla nostra associazione, a livello più professionale, praticamente, quelle che possono essere le iniziative da svolgere. Effettivamente, quelle che erano le aspettative me le sto ritrovando, anzi, credo che addirittura vanno ben oltre a quello che mi aspettavo. E' chiaro che studiare delle materie, dei concetti, anche tutto il vocabolario che non fa parte, diciamo, di quello che è il proprio background culturale, comporta delle difficoltà. Ma penso che con una buona volontà nello studiare tutto si possa, ma soprattutto oltre che studiare, proprio anche l'entusiasmo che poi si sta creando, diciamo, intorno a questo corso e con quello che sono poi i partecipanti al corso di formazione eopati. In realtà, appunto, si sta creando anche un bel gruppo tra di noi, tra noi studenti, e riusciamo anche in questo modo ad apprezzare, perché ci confrontiamo tra di noi, quello che i docenti di altissimo livello ci stanno trasmettendo.